Musica Siamo qui presenti al Giro d'Italia, questa iniziativa dell'Autovile Club per comunicare a tutti che siamo fruitori della stessa cosa, cioè le strade. Questo si inserisce ovviamente in tutto quello che l'Autovile Club Italia e gli Autovile Club provinciali stanno facendo per la sicurezza, per la sicurezza stradale. Siamo impegnati in questi e devo dire specificatamente del mio Autovile Club che la collaborazione stretta con tutte le scuole sta dando dei risultati veramente incredibili. Siamo qui anche come ACI Alessandria per la campagna Rispettiamoci per la sicurezza stradale. L'ACI Alessandria pone in essere alcune iniziative rivolte soprattutto agli studenti nelle scuole in collaborazione con la polizia locale, si tengono dei corsi di educazione stradale per così dire sul campo, sulla strada, in modo che i ragazzi sin da bambini imparino quali sono le norme di circolazione per poi poterle tranquillamente rispettare nel corso degli anni. Grazie a tutti!